Ciao a tutti e bentornati ai 101 secondi viola di oggi. Se non sarà rivoluzione oggi sarà rivoluzione a giugno anche se la sensazione è che poi Kalinic potrebbe davvero essere ceduto nelle prossime ore e potrebbe andare in Cina. Questo è quello che sappiamo ma si parla molto anche di un addio di Zarate. Diciamo che comunque sia l'attacco della Ferentina si trasformerà alla stessa posizione di Ilicic. Non è più una posizione diciamo così nel futuro con la maglia viola addosso. La Ferentina punterà su Bernardeschi e su Chiesa, i due giovani che in modo diverso stanno facendo straordinariamente bene in questo campionato. Bernardeschi, Chiesa e poi la voglia di puntare magari su Babacar se riuscirà a ritrovarsi, di creare quella linfa viola, quella linea verde viola costruita negli anni che potrebbe dare tante soddisfazioni. Però poi ci sarà bisogno chiaramente di intervenire sul mercato con una prima punta di valore, con un giocatore esterno molto forte a sinistra. Insomma Corvino sta lavorando su questo gennaio ma sta lavorando anche su giugno, sta lavorando sul futuro, sul prossimo mercato. Quando davvero il reparto offensivo viola sarà completamente stravolto, sarà completamente diverso rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Sicuramente Kalinic sarà una perdita enorme dal punto di vista soprattutto tattico. È un grandissimo giocatore, uno dei più grandi attaccanti che credo che la Ferentina abbia avuto nel periodo recente. Altresì vero che però là davanti qualcosa si può trovare con tanti milioni di euro se si avrà voglia di investirli. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Oleo. Grazie a tutti.